Oggi siamo qua a Castello di Grinzane per inaugurare la prima delle quattro opere che come Fondazione Casa di Risparmio di Cune abbiamo deciso di donare al nostro territorio per il trentesimo anno della nostra fondazione. Questa opera è un'opera di grande livello internazionale sia per il suo autore ma anche per il suo significato perché parliamo praticamente di cosa sta succedendo in giro per il mondo ovvero il sfidimento dei ghiacciai. Siamo davanti all'opera di Olafur Eliasson, The Presence of Absence Pavilion, il padiglione della presenza dell'assenza. Si tratta dell'opera di un grandissimo artista di origine danese e islandese anziché fare una scultura nella forma di un blocco di ghiaccio lo ha pescato letteralmente facendone un calco e poi ha fatto non la scultura basandosi su quel calco ma sulla forma esterna quindi è un rovesciamento della scultura tradizionale. Qui abbiamo il ghiaccio sciolto ma rimane l'involucro che ricorda la memoria di questa assenza. Vogliamo anche pensare al futuro, vogliamo pensare ai nostri giovani. Il titolo di questi trent'anni sono generazione delle idee, quattro sono gli argomenti importanti per questi trent'anni ovvero il talento, la cultura, l'ambiente e l'innovazione locale. Grazie a tutti.